Quanto è accaduto in queste ore a Pisa è di inaudita gravità. Gli uomini della Polizia di Stato, quelli che non riescono ad affrancarsi dalla sprezzante definizione di questurini, hanno caricato, picchiato e manganellato un corteo di studenti pacificamente manifestanti per il cessato il fuoco. Siamo le solite. Polizia debole con i forti e forte con i deboli. Polizia che picchia la gente con i rosari in mano, ma incassa sputi in faccia e cazzotti dall'ultimo clandestino. Devo dire a voi, sperando nel frattempo che il questore, il prefetto ed il ministro dell'interno di tutto questo rispondano, devo dire a tutti voi che è di tutta evidenza che non siamo più solo a fronte di un piano di compressione dei diritti, ma ad un piano di riduzione in schiavitù. Alla Polizia, in tal caso composta da codardi e mercenari, voglio dire solo vergogna. Mi risulta che i decessi causati dalla forzata inoculazione oscillino da 1 a 5 per settimana fra le forze dell'ordine. Questo significa che lo Stato che servite ha fottuto noi, ma ha fotte anche voi con una differenza, che noi siamo liberi e voi siete servi, servi senza vergogna, servi senza dignità. Vergognatevi.